Ciao a tutti amici, questo è uno short dedicato a Giulio Reggeni. Oggi è la giornata della memoria, la memoria vuol dire tante cose, e ovviamente per me la memoria oggi è quella di tutto ciò che è successo a questo ragazzo, per un motivo in particolare. Oggi è successo un grave incidente, proprio praticamente sotto casa mia sono morti 5 ragazzi ed è una grande tragedia, ma la cosa che mi colpisce più di tutti del caso Reggeni è che è un ragazzo un po' come il femminicidio, non è che muore una donna, è che muore una perché è donna, e nel caso di Reggeni non è che muore un ragazzo, muore un ragazzo perché ha una grande identità, perché quello che fa ha un grande valore e perché è proprio il tipico ragazzo che tutti vorrebbero avere come figlio, perché credo che l'orgoglio è qualcosa che ti scoppia nel cuore all'idea di avere un figlio come Giulio Reggeni, quindi veramente troppo detto e mai fatto, verità per Giulio Reggeni.